Spera, metti la marcia indietro, va. Ancora, ancora la marcia indietro, ancora. Vai dietro, vai dietro. Vai dietro con la marcia indietro. Ma perché non giri quello sterzo? Gira sta fai. Ma quando non viene questa cosa? Eh? Quando non viene? Gira di più, no? Se non ce la fai gira di più, no? No, 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 no. No, 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 no. Spera! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti